di oggi. Allora, penso che ci sono un po' di turisti questa sera, non qua, c'è gente non del posto, giusto? C'è qualcuno? Tutti di qua a sede? Non vi credo, sono tutti partiti, no, 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 si vergognano. Il prossimo brano che andremo a fare ricorda quello che era un mestiere molto antico, che oggi forse è andato perduto, quale? Il calzolaio, giusto? Vai Zangira, Lu Scarparo! Grazie a tutti! Non ha raggento quante cose vedi, quando la notte sola sola stai, e c'entra un ammurati sentirli i gridi, e lì corinca andati la mette guai. E povero Scarparo va con lo bastoncino, lo lascia senza scrupolino, povero pallino. E povero Scarparo va con lo bastoncino, lo lascia senza scrupolino, povero pallino. Buongiorno! 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 Sfizzutata, 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 s Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.